Siamo con il giornalista Marco Calvetti che nel suo ruolo di editorialista chiediamo un commento sulla situazione della Camera di Commercio di Lecco dopo il recente provvedimento del Tar che ha dichiarato ineleggibile il Presidente Vico Valassi. Quindi andiamo incontro alla nomina di un nuovo Presidente. Una stagione magra dal punto di vista della democrazia lecchese, questa attesa per una battaglia legittima può essere accanita ma che si è decisa da un tribunale amministrativo non appartiene alla tradizione della battaglia politica in città. Questo è già un segnale che certifica l'anomalia anche perché c'erano già sentenze del Tar della Calabria, altre situazioni che indicavano una strada precisa della non elegibilità dopo certi mandati, lo si fa per i sindaci, ognuno dei commercianti, ognuno dei industriali, tutti al massimo due mandati, l'eccezione non aveva senso. Adesso, superando questa fase, evidentemente si scontrano e si scontano i mesi buttati via per trovare una soluzione politica. La Camera di Commercio è anche lei sotto punto interrogativo, quale sarà il suo destino? Non siamo nelle fasi nelle quali si parla di istituzioni salde, si parla invece di situazioni nelle quali ci sono gli accorpamenti in vista, leggi che ti posso calare dall'alto e sospendere e quindi adesso si tratta di non direggere un Presidente chissà che potere ha, vedere quali poteri avrà, come condurrà la battaglia per gli accorpamenti, come saprà gestire una situazione che reclama un fatto. A me questa qui dell'unità mi pare molto forzata, edulcorata, però almeno trovare una seria maggioranza all'interno del Camera di Commercio che tenga conto, come sempre nella vita, delle rappresentanze azionarie, la chiamo così. Quando si diceva della RAI, la DC è l'azionista in maggioranza relativa, ha più voti. Chi ha maggiori voti all'interno del Camera di Commercio? Commercianti e industriali. Allora si fa un discorso di questo tipo, si trova una soluzione intorno a un programma preciso e si stempra la situazione perché le sfide in avanti sono tremende. Se è vero come è vero che ormai il tema della ripresa si è già affievolito e siamo tempestati notte e giorno di spread che sale, di borse che vanno male, di titoli bancari che ci affossano. La Cina, che è la fonte dei soldi, serve solo ormai per comprare i giocatori di calcio ma non per garantire l'economia. Ecco, allora facciamo il punto della situazione. Balassi ha dovuto dimettersi perché il Tar l'ha dichiarato ineleggibile. Il Tar stesso però ha confermato la validità delle elezioni della Giunta e ha incaricato l'attuale vicepresidente Daniele Riva degli Artigiani di convocare il Consiglio Camerale per eleggere il nuovo presidente. Sono già previsti dei tempi? I tempi sono entro un mese dalla domina, dalla indicazione del Tar precisa al vicepresidente. Credo che il mese sia abbastanza, fin troppo ma potrebbe essere anche troppo poco se non smussano gli angoli e non trovano consenso intorno a un progetto. Credo che in questo momento, siccome c'è stata sempre nel passato una certa unanimità sui progetti della Camera di Commercio, il vero progetto è adesso dire con chi andiamo, cosa facciamo, tenendo conto che siamo a Lecchio in una fase nella quale la provincia non c'è più, i punti di riferimento istituzionali quali sono? Facciamo un grosso passo indietro. Noi, io e te e Loisio conosciamo bene i tempi del passato, quando queste cose qua dove le decidevano, a Como. Ecco, quindi i tempi potrebbero essere brevi o lunghi, perché si va a nominare un presidente che avrebbe anche un mandato temporale limitato, visto il progetto di accorpamento? Se fosse nel caso del governo direi che bisogna nominare un presidente esplorativo che vada a verificare le disponibilità con Como, con Sondio, anche perché adesso mai la fanno facile, ma io invece la vedo complicatissima, perché gli industriali sono già con Sondio, giusto? I sindacati vogliono andare con Monza, altri vogliono andare con Como, altri ancora dicono no, Como no, perché vorrebbe ritornare nel grembo di chi ci ha dominato per una vita intera. Ecco, allora se tanti vedesti, passati qua, sono molto dedicati, lo sai quando entra poi il campanilismo, mettere insieme i campanili, sai benissimo come fatica si fa a mettere insieme due comunelli di 3.000 abitanti che da soli non sopravvigliano, ma guai, andare sotto lo stesso campanile. Vico Valassi esce di scena, è già stato ribadito che non si tratta di una critica alla persona che sicuramente si è dato tanto da fare nel suo lungo mandato presidenziale, qual è il tuo pensiero in proposito? Io dico che Valassi dovrebbe ricevere il premio come cittadino benemerito che non è mai stato riconosciuto, è una cosa secondo me indegna della città per tutto quello che ha fatto Valassi. Che Valassi può avere smessa la carica, passata il momento di disagio, forse personale, non lo so, può avere un grosso ruolo, si possono avere ruoli senza poltrone. E quello che mi fa ridere invece è tutta la giostra, il carosello delle prefiche e di quelli che hanno in qualche modo espresso Valassi e solidarietà, secondo Valassi credo sia vivo e vegeto, forse in lui mi farei gli scongiuri, toccherai il ferro o qualcos'altro per evitare che tutti i signori qua trasformino i loro riconoscimenti in condoglianze o epitafie. E tu all'orizio sai che Montaleglio diceva che non c'entri più farsi di un epitafio.